Questa sera vogliamo affrontare Tō Piro, viene dal Piro, zona montuosa della Grecia vicino alla Lovania. Ricordate che mi sei, però per il libro è la lingua di 180. Facciamoci inizi di 180, facciamo un po' un po' di ciò per ricordare i nostri amici, i spettatori. Apriamo quelli destri, facciamo il sinistro e il sinistro è croce due volte avanti, come vedete, un po' di sinistro, una volta indietro e due volte in avanti. Questo è un po' di rischio che si conta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Va un po' di rischio, fatto nel libro del centro età, quindi con la logica slow, quick, quick slow, quick slow, c'è da te меньше, patti, ta, 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 da, bom, ta, 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 da testa. Un po' di rischio, un po' di rischio, un po' di rischio, un po' di rischio Allora, slow, chic chic, slow, chic chic, cioè sempre rimanendo su questo bel ritmo griffo, no? Proviamo allora a fare un po' buonissimo con i due levi, un po' punti via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, chic chic, otto, chic chic, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, chic chic, otto, chic chic. Questo è il po' buonissimo più chic chic che ci accompagnerà durante tutta quanta la prima parte della tazza. O naturalmente c'è una parte strumentale, a volte c'è anche sopra, a volte strumentale, comunque è la parte B. Quindi cosa consiste? Facciamo lo yemenita, un cha cha cha, un peso, un lancio e un cha cha cha. Vediamo un po'. Prima ve lo faccio vedere quello che facciamo insieme. Lo yemenita e con il desto faccio questo affettino qua. Il desto quindi va indietro e torna l'overe. Poi cha 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 è sul posto. Adesso ho di nuovo il desto libero. E quindi lo porto avanti, ci metto il peso e faccio chic 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 con il sinistro. e con un cha 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 o un yemenita all'indietro, più di sinistro, faccio un, due, tre. E quindi lo facciamo insieme. Yemenita, cia 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 cia, pezzo, lancio, yemenita. Punti che? Yemenita, cia cia cia, e giù, ci, ci, cia, ta, ta. Sì, non è proprio yemenita, è lupo, punto, punto. Yemenita, cia cia cia, pezzo, lancio, cia cia cia, yemenita, cia cia cia, pezzo, lancio, cia cia cia. Tutto qua, musica, con la prima che si vuole, con la seconda scuola, a scuola. Ok. Altra piano. Vesca. 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Devo vedere la casa. quando il mio perci sul fumo non lo stai su nel suo somma quando il mio perci sul fumo non lo stai su nel suo somma che mette quando il mio perciato è sempre una maggiore che mette quando il mio perciato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.